Ciao a tutti, mi chiamo Carlotta Citi, ho 22 anni, ho frequentato l'Istituto Modartec, nello specifico il corso di Fashion Design. Ho scelto l'Istituto Modartec perché si trova al centro di uno dei più importanti distretti della moda italiana, quello del cuoio e della pelle. Qui all'Istituto Modartec ho capito come essere molto più obiettiva nel lavoro che faccio e a portare avanti il concetto di leadership. Attualmente sto svolgendo una internship in Saint Laurent, proprio a Scandici, ufficio prodotto. In questa sezione riesco a vedere molte parti della produzione di borse e piccola peletteria. Le abilità più importanti che un designer deve avere sono sicuramente la sicurezza verso il lavoro che fa e la creatività. Sperto l'Istituto Modartec. Ciao a tutti.